ahi manchi, non stiamo troppo fermo però perchè i cecchini esistono da dove? mi pare che mi spara addosso di un ordo tipo, o no? si, sta l'addendo si è cecchinato mi sa che non è un botte, si è cecchinato ma sta allanzati, come va? a tu cazzo sta?